Siete alla ricerca di sistemi alternativi per il riscaldamento di casa? In questo video vediamo cos'è e come si realizza un pannello elettrico radiante. Io li chiamo pannelli radianti perché li ragiano. L'idea alla fine è la stessa idea. L'idea della stufa ad accumulo è praticamente di avere un calore come il sole, più o meno anche come adesso in questa stagione, che è un sole che arriva intenso però morbido e un caldo che non è troppo però piacevole. Non immaginatevi un termosifone. Il modo in cui un pannello di accumulo radiante ci scalda è molto diverso, più naturale e salutare. Mi sto scaldando alla lavagna. In realtà non è una lavagna, è una stufa, anche questa, che accumula calore e ce lo restituisce. In questo caso non abbiamo combustione perché abbiamo elettricità invece. Sì, è così. Come funziona? Spiegami. Il principio è uguale. Quello che cerco io di fare è il racciamento. Vuol dire che ci vuole un materiale non metallico, qualcosa come terra, terracotta, in questo caso un rifattario oppure un mixtra rifattario e marmo. Sono delle colate, sono fatte da me. E dentro, immerso, c'è una resistenza elettrica, un filo. Quello si scalda, trasmette il calore sul materiale e quello poi dopo fa il racciamento. Il gatto viene subito a scaldarsi accanto al pannello radiante. Questo certamente è il nostro oggetto qua da ufficina. I pannelli sono bellissimi. Quindi si fa la forma e la dimensione più utile per la propria casa. Anche in questo caso viene a calcolare, in base ai metri quadrati da scaldare, quanto deve essere nel pannello. Sì. Poi spesso viene anche utilizzato come aggiunto, praticamente qualcuno si stempera la casa e quando serve o per guardare la tv oppure quando vengano le visite, quando si mangia, si accende quello per 1-2 ore e c'è proprio caldo come entrasse il sole. Per avere questa intensità di calore ci vuole un materiale che lavora nello stesso modo. Vuol dire che sarebbe come la terra, la pietra. Scaldando la pietra fino a una certa temperatura ha la stessa intensità. Qui questi pannelli di una pietra, in questo caso artificiale, e lo scaldo fino a circa 100 gradi, mi dà la stessa intensità come il sole. Sì, questa è proprio la base, così si comincia tutto. Su quello vengono applicati i fili e dopo piano piano riempito. Chi isola? L'abbiamo fatto addirittura con la pula di riso anche, come isolante. Invece davanti poi la parte che accumula. Il bello è che praticamente il calore diventa intenso, però rimane morbido. Invece col metallo è spesso molto forte e neanche più piacevole. Invece qua rimane davanti anche un giorno. Qua vedete diverse finiture che si possono applicare sia sulle stufe che sui pannelli. Sono addirittura, ogni tanto sono proprio delle lavorazioni spatolati. Oppure questo qua è levigato, che qua esce molto di più il grano proprio della pietra, si nota di più. Questo ad esempio è un marmo verde con un po' di ossido blu e si vedono anche le paliuzze di paglia addirittura. Per essere sincero sto provando di usarla e la uso molto volentieri sapendo che è veramente uno scarto. Se no ci sono anche altri materiali tendenzialmente naturali come la via Micolite, sono delle pietre soffiate un pochino come nel vulcano. Questi ad esempio sono sempre lavorazioni in calce, quello verso l'azzurro qua, verso il giallo. Il consumo dipende dalla dimensione del pannello, dall'isolamento della stanza, dalla fonte di energia, dalle ore che lo teniamo acceso. La domanda praticamente di quanto energia devo mettere vale tendenzialmente per tutti i riscaldamenti. Se vado a metano, se vado a corrente elettrico, se vado a legna, io devo mettere sempre una certa quantità. Sono più o meno un kilowatt di potenza per dieci metri calpe stabile. Il pannello radiante ha un grande vantaggio. Tanti si spaventano all'inizio che dicono ma il costo della luce è alto. In verità è così che un grande vantaggio del pannello radiante è che l'energia che viene messo dentro ci rimane proprio per cento per cento. Non ci sono dispersioni, non c'è proprio una dispersione sia di caldaia che altro. Però questo vale per tutti i riscaldamenti ad irracciamento per il fatto che non scalda l'aria, il irracciamento, che proprio scalda tutto che tocca, sia il corpo fisico, scalda il pavimento, mobili, eccetera, eccetera. Consuma sempre tra 30 e 40 per cento meno rispetto a un tiamossifone. Un altro grande vantaggio di questo pannello abbiamo scoperto anche con alcune visite, alcune piccole guide, quando c'era un gruppo per dimostrare un pochino il pannello. L'abbiamo acceso, entro 20 minuti stavamo tutti davanti proprio al caldo, in un ambiente come qui, vuol dire fa anche freddo. Poi tutti hanno detto ma sì, se io dovevo fare la stessa cosa con la caldaia, col tiamossifone, dovevo accendere almeno 3-4 ore prima per non avere lo stesso piacere. E accendo il pannello radiante queste 2-3 ore quando mi serve e ce l'ho veramente un caldo, veramente molto molto piacevole. Chi ha dei pannelli fotovoltaici potrebbe sfruttare tutta la corrente elettrica che produce gratuitamente e può dare la corrente elettrica in questo pannello. Dentro ci sono delle resistenze che si scaldano e scaldano la pietra e la pietra scalda poi dopo l'ambiente. Il costo certamente è molto meno di una stufa, qua arriviamo tra circa 400 euro a 600 euro, dipende come sono lavorate anche dopo, tra i piccoli e i grandi. Costruire un pannello del genere non è difficile, si può imparare a farlo ma aiuta a avere a disposizione un'officina attrezzata. La pula di riso e il cemento e questo è la pomice e questo diventerà il primo strato, spesso più o meno un centimetro e fungerà da isolante. Uno. E fa un po' di polvere. Siamo a posto, si finisce di setacciare. Che bello è l'impasto proprio come quello dei dolci a casa. La pula di riso è fantastica come materiale isolante. Quindi metti un po' e io giro. Giusto. Adesso attacchiamo un miscelatore sennò c'è da spaccarsi le mani. Ah ok. In braccia. Figo. Ho paura di farlo uscire? Eh, ho preso io un secchio piccolo. È veramente un mio motivo. Abbiamo fatto questo impasto che contiene anche del cemento, ma non è un cemento normale, è un cemento di bauxite. Il cemento normale, che conosciamo nella edilizia, viene fatto tenne in cementi di calcare, una miscela di calcare e argilla. Il cemento che deriva del bauxite viene usato nei ambiti dove c'è tanto caldo, alti forini, eccetera. E, come detto, deriva del bauxite. È un argilla molto ricco di ossidi di ferro e di alluminio. Resiste a temperature fino ai 1.400 gradi quello che abbiamo qui. Le fasi di realizzazione sono così. Io intanto mi preparo. Qua si vedono tre modelli. Due cerchi che vengono applicati alla parete. E qua un pannello rettangolare un pochino più piccolo. Si vedono diverse dimensioni. Anche qua già si capisce scaldano di più, scaldano di meno. Questo ad esempio va tra 500 e 800 watt. E questo va più o meno tra un kilowatt anche fino a un kilowatt e mezzo. Si può immaginare se dietro la parete della stanza non voglio che il calore arriva al muro, allora c'è praticamente questo telaio di ferro dietro uno strato di isolamento che potrebbe essere chi piace molto naturale. Lavoro con la pula di riso. Potrebbe essere un altro materiale che resiste un pochino il calore. Dopo quello che si vede qui c'è uno strato, quello la maccia parte dello strato, un rifattario. Questa è graniglia di rifattario. Un'altra paletta ancora. E adesso gli ingredienti del pannello radiante. c'è un ingrediente un po' particolare che sono questi aghetti, non è che pungono, sono queste striscioline di ferro che servono a dare struttura all'impasto. E' una miscela praticamente di un cemento a alte temperature più la graniglia di rifattario, dove è immerso dentro quel filo con la resistenza elettrica. E dopo a piacere, a gusto del cliente, chi vuole mettersi dentro il pannello. Si vede anche qua, ad esempio, il ferro. L'ho trattato per arruciniare un pochino, per rendere come aspetto visivo più morbido. Qua c'è una lavorazione di calce a spatola, saponato. Invece anche qua calce con la paglia dentro. Tutto per quello più proprio per l'occhio. Si parte da una struttura in ferro che dà la forma al pannello. All'interno si fissa una resistenza elettrica. Qui passa la corrente elettrica. In questi punti qui, questi due fili interni entrano in contatto con questo. Uno di due fili interni entra in contatto con questa qui. A questo punto si applicano tre diversi strati di impasto. Uno isolante, uno di accumulo e uno di finitura. Si può appendere alla parete come un quadro oppure si può appoggiare a terra con una struttura se si vuole spostarlo ogni tanto. L'iraciamento ha un valore che si conosce anche dal sole. Anche di solito non siamo consapevoli di quello. Che arriva al corpo e penetra il corpo. Si dice fino a sette centimetri. Così si può immaginare entrando il calore con le sue onde nel corpo. Stimola il corpo, stimola il metabolismo. E così il nostro corpo diventa attivo. Crea praticamente auto crea del calore. E quindi un riscaldamento molto molto salutare. Spero che questo video vi sia stato utile. Ringrazio tantissimo Axel che mi ha ospitato nel suo laboratorio e mi ha fatto vedere come si realizzano i pannelli. Alla prossima puntata vediamo anche le stufe a gasificazione. Ricordatevi di mettere un bel like, condividete il video con un amico che non conosce questi pannelli e ci vediamo al prossimo video. Ciao! L'ha fatto? Di prossimo video! U�!! Ciao! Ciao!